Almeno posso fare qui qualcosa... Ah! Che cos'è? Ah! No! No! Ah! Ma Ellie, adesso abbiamo un problema! Guarda, sono ancora a sua! Corri giù! Ci sono delle vite in pericolo! Corri giù! Ah! In che senso? Cosa stai facendo? Siamo in guerra! Team! Combattenti! Di terra! No, no, no! Vedete, lì sopra c'è Solar perché l'ho aggiunto! E lì c'è la casa di un mio amico sta costruendo! Vedete, siamo solamente noi due sul nostro server vanilla! Questa è casa di Duny Simpazzito! Sì, è casa mia, ok? E questa è una cassa della quale io non ho minimamente idea! Ma non è lo scherzo di oggi! Oggi dobbiamo andare a fare lo scherzo al mio amico e gli dirò che ho aggiunto Solar! In realtà questo è tipo una cosa che ho aggiunto io, non è il vero Solar! Almeno spero! Non dovrebbe fare niente, mi auguro! Anche perché mi ha traumatizzato! Comunque non c'è nessuna moda in questo mondo, quindi non dovrebbe fare assolutamente niente! Ora, io direi di andare in creativa! Perché in creativa possiamo avere tutte le cose, i vantaggi che possiamo avere! Ecco, tipo adesso farei così e... PEM! Non mi deve vedere che sto volando, accidenti! Ovviamente la creativa non prenderò nessun diamante alla creativa, per carità! Ciao, Eli! Ciao! Come va? Bene, bene! Vedo che stai costruendo casa tua! Eh sì! Mi sto portando molto avanti! Come ti sembra adesso? Brutta! Però... Grazie! Mai quanto questo, guarda! Ah! 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 Che cos'è? No, no, no! Tranquillo, tranquillo! Allora, tu conosci Solar? Sì, ho visto i tuoi video! Non so come fai ad affrontarlo io! Guarda, non lo so nemmeno io! Sono veramente molto coraggioso! Però, questo qua mi sa che ti vuole far fuori, Eli! Ecco, appunto! Non... Ti prego, ora io non lo so che cosa faccio! Io mi devo... Il vetro! Chi è che ha rotto il vetro, Eli? Chi è che è stato? Solar, sei stato tu! Solar? Sarà stato Solar! Ma stai scherzando? No! Io adesso che faccio? Non lo so! Adesso io me ne vado in casa! Accidenti! Corri, corri, corri! Corro, corro assolutamente! Corro assolutamente! Ciao! Ok, allora, adesso ragazzi non mi sente più! Praticamente... Ok, mi sono dato l'effetto! Praticamente adesso non si vede più nemmeno le particelle, così lui non sa assolutamente che c'è! E adesso lo sentiremo probabilmente parlare, anche perché mi smuterò! E si sentirà urlare probabilmente! Adesso vediamo un attimo dove... Ah! Ah! Che cos'è stato? Che cos'è? Che... Dove... Perché... Ah! No, ti prego che ci ho messo tanto a prendere questa sabbia! No, ti prego! Ah! Adesso che faccio? Dunice se n'è andato! Io sono da solo! Ah! Eli, Eli, Eli! Mi sono smutato! Oddio, hai visto cosa sta succedendo? Sì, ho visto! Mi ha spaccato il vetro! Adesso io me lo devo rifare! No, ma tu non sai! Qui il mondo è in pericolo adesso! Cosa? Sì, tutto il mondo, tutto il nostro mondo vanilla! Mi sa che sta arrivando la fine del mondo! Ah, Dunice! Mi sono dimenticato di dirti una cosa! Cosa? Ho sentito che... Solar ha una relazione con un altro sole! Si chiama Solari... Solarina! Ok, ok, e? Eh, ho sentito che fanno delle cose un po' strane, tipo... Ehi, ciao piccola, come va? Ehi, ciao Solar, come va? Tutto bene, tu? Ma che... Eh, ciao, io sto... sto bene, sto molto bene! Cosa vogliamo fare oggi? Eh, oggi mi va molto di fare yoga! E tu che dici? No, non voglio... non voglio... basta! Basta! Non siamo quel tipo di persone! Ok, non facciamo queste cose in questi video, va bene? E comunque... Scusami un attimo... Ma perché Solar dovrebbe avere una fidanzata? Non lo so, ho sentito delle voci... Vi immaginate, ragazzi, sia una fidanzata? Guarda, non lo so... Comunque, adesso cosa facciamo per Solar? Ma Eli, adesso abbiamo un problema! Guarda, c'è ancora Solar! Corri giù, ci sono delle vite in pericolo, corri giù! In che senso? Cosa stai facendo? Devo salvare le vite, io devo fare qualcosa! Devo fare assolutamente qualcosa! Oh mio Dio, ragazzi! Che paura! No, c'è Solar nel mondo! Io devo semplici fare pensare! Mi metto a piacere! Ok, adesso non ci sente più, allora, mi sono mutato! Allora, ragazzi, come vedete, il mio amico è completamente impazzito, mi sa! Adesso abbiamo andato via alla sua follia, purtroppo, perché Solar gli fa davvero tanta paura! Cioè, lui è terrorizzato se lo sogna la notte, una volta mi ha raccontato che l'ha sognato la notte si è svegliato da un incubo con Solar e l'ha visto pure davanti ai suoi occhi! Spero che sia solamente un incubo, comunque, spero che non sia la realtà! Comunque, adesso io direi di fare una cosuccina! Cioè, direi di fargli uno scherzetto bello bellino, tipo, non lo so, direi di diventare di nuovo invisibile, ma stavolta prendere un Flint in stile e dargli fuoco! Oddio! No, no, però non Finn, Flint ho detto, ok? Così, prendiamo e gli diamo fuoco! Allora, andiamo con questa parte! Entriamo in questo buco! Peraltro, che cacchio sta facendo, raga, ma... È proprio impazzito completamente, guardate, ha costruito... Ho meno male del ferro! Ok! A me non posso fare poi qualcosa... Ah! Che cosa... Ah! No! 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 Corri via! Corri via! Spendi il suo fuoco! Ah! Ma perché a me? Perché succedono tutto tra me? Corri via! Come nel mio incubo questa cosa! Ok, adesso me ne sto andando! Via, 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 via! Ragazzi! Ragazzi, questi scherzi sono la vita! Sono bellissimi! Ma cacchio, ma non sapevo che sarebbero stati così belli questi scherzi con Solar! Infatti, se vedete, l'ho pure bloccato in mezzo al cielo! Perché così almeno... Continuo a guardarlo dall'alto e fargli un sacco di paura! Bene, bene, bene! Comunque, adesso... Cos'è che potremmo fargli per fargli ancora paura? Tipo mettergli una cassa? Una trapped chest con una TNT? Allora, ragazzi, io c'ho un programma che dopo praticamente possiamo... Mettergli sotto! Cioè, tipo, possiamo rifargli andare indietro il tempo! Quindi, direi che queste cose vanno bene fin quando... Insomma, non diventa troppo, ovviamente! Perché sennò poi dopo mi distrugge il mondo se gli metto troppe TNT! Allora, se gli metto un libro book e tipo gli scrivo... Solar ti sta osservando in questa cassa qua... Così... No! No! No, no, no! No, no, no! Io ho distrutto casa, ragazzi! Io ho distrutto casa per sbaglio! Ok, va bene! Mi sa che però adesso sarà attratto da questa... Dal suono, no? Giustamente! Solar ti osserva! E ovviamente adesso tornerà qua a sentire che cacchio sta succedendo! No, ragazzi, non posso... Che... Che... Ok, ragazzi! Così, così, così! Ok, io ho messo il libro lì! Sentite! Oh, no! Mi vede la TNT in mano! Ok, perfetto! Adesso non mi vede più niente! Ok, prenderai il libro... Ok... Adesso è spaventatissimo! Poi è pure tutto indeciso! Che libro è? Oh, l'arte, io sei... Cosa? No! Perché? Ok, per... Mi smuto! Raga, ehi, 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 cosa sta succedendo? Ho ricevuto questo libro! Dove sei? Te lo faccio leggere! Quale libro? Sono qua! Ma ti si è distrutto tutto! Sì, mi ha piazzato la TNT qualcuno! Non so che cosa è successo! No, sono gli scagnozzi di Solar! Mi ho messo tanto a fare questa cavolo di casa! No! Ma scusami un attimo! Che cos'è questa cassa qui? L'hai messa tu? No! Che cosa ci sarà dentro? Ti sento un po' indeciso però in questo momento! Eh, ho paura, infatti! Eh, cosa... Fammi vedere cos'è che c'è... Ah! Ah! No! 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 La mia casa! No! Eli, no! Ma chi è che te l'ha messa? Non lo so! Eli! Ma ti ha distrutto tutta la casa che hai iniziato! Infatti! Chiunque sia stato me la pagherà! E poi è vero che ti ha scritto... Eh, infatti! Beh, sarà stato sicuramente Solare! Te la paghi... È giusto che tu ti debba vendicare! Adesso, fagli vedere come ti vendichi! Vai a prendere a salvare tutti! Vai! Corro! Yeah! Cala, l'attacco! Oh no, ragazzi! No, no, no! Corri! Dove sei, pirata? Quattro soldi! Ma cos'è? Eli, cosa stai dicendo? Quale pirata... Perché stai distruggendo la piantagione? È perché servono risorse! Come servono risorse? Per cosa? Per salvare il mondo! Va bene, va bene! Allora, tu continua a salvare il mondo! Io me ne vado dietro, però sempre energico, perché Solare sta contro di noi! E quindi io appena finisco di parlare, tu inizi! Vai! Me ne vado! Ciao! Non ti preoccupare! Non ti preoccupare! L'ommazzerò a Solare! Sì, bene! Ok, perfetto, ragazzi! Avete visto? È completamente impazzito totalmente! Ma mi sa che questo è l'effetto che Solare fa! Perché, tipo, gli abbiamo dato coraggio, no? Io gli ho trasmesso il mio coraggio in questo momento! Ma il problema è che lui, non è che, cioè, di sua natura, non è che è sempre coraggioso! Avete visto? Prima stava lamentando, stava piangendo, non era così tanto indeciso! Cioè, era tanto indeciso in realtà! E quindi, ragazzi, mi sa che l'abbiamo fatto impazzire! Non gli abbiamo... Non l'abbiamo aiutato! Mi sa che l'abbiamo fatto proprio impazzire! Come facciamo adesso? Dobbiamo distruggere... Dobbiamo ancora più ucciderlo, allora! Vabbè, allora, facciamo una cosa! Prendiamo un arco e... Arrow! Arrow, così, perfetto! Sarebbe bello che lui ci raccontasse altre storie cringe, perché... Erano un po' cringe quelle storie, no? Che ci stava raccontando di Solare e Solarina! Non so se sono vere, sono voci un po' strane, no? Un pochino particolari! Poi dove è finito? Ah, è lì, vedi, vedi, vedi! Allora, aspetta un attimo, mi devo mettere però invisibile, perché sennò mi vede, sennò che cacchio è! Ok, perfetto, lo sparo da distante! Non lo prenderò mai nella vita! Ma ragazzi, mai! Ma... Ok, perfetto! Scappa! Scappa via! Scappa via! Aia! Aia! Ma quanto fa male questo arco? Aia! Mi scavo un po' sui poteri! Ok, perdonatemi, veramente, questa è stata una risata di follia, veramente, non... Perdonatemi! Non so cosa mi è preso, mi sono spaventato da solo! Credo che queste cose mi fanno un po' paura, cioè, capito? Quando io faccio gli scherzi mi spavento da solo, perché impazzisco completamente come lui, a quanto sembra! Mi sa che vedo tipo una spada in aria! Va bene, allora me ne vado via, tipo così, e poi... Me ne vado via, 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 via! Ok, adesso mi smuto! Ehi? Tu non sai cosa sta succedendo Non sai cosa sta succedendo Mi arrivano frecce Come frecce ma anche qui Anche qui è pieno di fuoco Fiamme saette Ci sono i fulmini che cadono dai cieli Mi sa che la fine del mondo è vicina Infatti devo tornare giù per farmi il bunker Come il bunker Ma sei sicuro che il bunker resista a solar Non ne sono molto sicuro Ma almeno sarò più protetto dal sole Immagino Non lo so Ok Ely Praticamente adesso siamo in guerra Siamo in guerra Combattenti di terra No 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 Fermo che cosa stai dicendo Siamo in guerra quindi No non in quel senso Non quella guerra Siamo in guerra contro solar intendo La dichiarazione di guerra No smettila Non va bene E poi perché non stavi parlando Allora ascolta un attimo Adesso Cioè ho paura che solar Sia proprio qua vicino a noi E ci stia sentendo Siamo in guerra Donis aiuto Aiuto Eh quello è stato solar Quello ha parlato prima Hai sentito Siamo in guerra Ok no no zio Cioè questa cosa è inquietantissima È veramente inquietante Com'è possibile che solar Faccia tutte queste Proprio sinceramente parlando Proprio più sinceramente parlando Ma la sto facendo più che sotto Ma che schifo Siamo pure in un buco In questo momento Senti Siamo in un buco Poi puzza Vabbè Lascia stare Allora Ascolta un attimo Dobbiamo cercare di regolarci un attimo Perché se no Non va bene Così va bene Quindi Dobbiamo cercare di capire Come solar sta facendo A fare tutte queste cose Io ho preso Questi occhiali Non credo che ci siano degli occhiali Aspetta un attimo Io ho preso Questa cosa Che ecco Me l'ha data solar prima Che cos'è secondo te Che Che Non lo so Che Cosa stai dicendo Perché stai parlando con solar Non devi dargli corda Allora ragazzi Io mi sono mutato un attimo In realtà deve dargli corda Ovviamente Perché è questo il mio obiettivo Però adesso Mi smuto e risentiamo Eli Quindi Senti un attimo Solar Che cacchio hai in mente Non lo so Ma ce l'ha Ce l'ha con te Eli Hai sentito Ha detto Che cosa vuoi Eli Cosa vuoi Da me Eli Chi sei Eli Che cos'è sta cosa Che ci sono Illucinazioni Cos'è Aiuto Dove 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 Vendicarmi su di te Dove Vendicarmi su di te Che cosa Perché Cosa ti ho fatto io Possiamo diventare amici Eli Eli ma che cacchio Ma Questa cosa è assurda Ma cosa mi stai dicendo Ma Solar Solar Stai parlando Magari 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 Gli dico Che Gli do Gli do In sacrificio Te Almeno Magari Vediamo Se accetta Cosa stai dicendo Non puoi fare Questa cosa Senti Io me ne vado E mi muto Va bene Ciao Comunque Si deciso Quando parli Con Solar Perché lui È così che ti vuole Deciso Quando parli Va bene Mi sembri un po' spento Ti farò vedere Che sono Un combattente Va bene Va bene Fagli vedere No Smettila Basta Per favore Io me ne vado Adesso Va bene Parla con lui Va bene Ciao Cosa vuoi da me Che cosa vuoi da me Ti ucciderò Ma perché proprio Vuoi me Devi per forza Prendere me Come ostaggio Premi Prendi Che dolore Eli Siamo le voci Nella tua testa Adesso ho anche le voci Nella testa Ciò che cavolo è Eli Siamo qui Ad aspettarti Dentro di inferi No Io qua Io qua sto impazzendo Io devo fare qualcosa Io Non lo so Io faccio qualcosa Di imperdonabile Io Faccio qualcosa Griffodunis Quasi quasi Mi son mutato Che cosa ha detto Griffodunis Ma vuole veramente Griffarmi Ma allora questo scherzo Solo merita tutto Ma ragazzi Ma avete sentito Cosa ha detto Se vuole griffare me Come si permette Tu non puoi griffare Dunis Perché io 246 ore di invisibilità Hai capito Io posso griffare Tutto il mondo E diventare ancora Peggio di solar Peggio di solar Peggio di solar Ok adesso era Perché avevo messo Male il filtro Vabbè sentite Allora Gli scherzi Li continuiamo a fare Con lui Perché è veramente Antipatico Ok Cioè non può Dirmi questa cosa Adesso mi smuto Eli Senti il mondo È maledetto Io Veramente non so Che farci Quindi direi Che ci vediamo Alla prossima volta Io esco dal gioco Quasi quasi Che esco anch'io Sì Ciao ci vediamo Ciao Ciao